Possono continuare i lavori di manutenzione stradale a Buccinasco? Il Comune ha inviato una comunicazione alla Prefettura, alla Procura di Milano e alla Direzione Distrettuale Antimafia per avere informazioni su una società coinvolta nelle vicende che nei giorni scorsi hanno portato all'arresto del Sindaco di Opera. Due soci della Marmo Costruzione SRL infatti sono agli arresti domiciliari con l'accusa, tra gli altri, di traffico illecito di rifiuti. Con questa società, nel luglio 2020, dopo aver effettuato con esito positivo i controlli previsti dalla normativa, il Comune ha infatti stipulato un accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione delle strade e dei sottoservizi per la durata di due anni. Il contratto prevede anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti poi prodotti, anche se questa attività fino ad oggi non ha avuto esecuzione, se non in minima parte. Dopo aver appreso la notizia degli arresti, ha detto il Sindaco Rino Pruiti, aver effettuato tutti i controlli per verificare la regolarità del contratto, abbiamo ritenuto doveroso rivolgerci alla Prefettura, alla Procura e alla DDA per sapere se al momento sussistono procedimenti o provvedimenti che impediscano al nostro ente di portare avanti il contratto o ne rendono opportuna la sospensione. Questo è quello che si chiede il Sindaco. Purtroppo, come spesso rivelano le inchieste delle cronache e ha continuato Pruiti, gli illeciti avvengono nonostante il rispetto formale delle procedure e noi abbiamo il dovere di tutelare il nostro ente e i nostri cittadini.